I cittadini di Mattinata, ma anche quelli di Vieste e Manfredonia, costretti ogni giorno a percorrere la strada che collega i tre centri nevralgici del Gargano per motivi di lavoro o per andare a scuola, non ci stanno. La chiusura per tre mesi della galleria di Monte Saraceno crea notevoli disagi. A Mattinata è nato un comitato spontaneo coordinato da Michele Biceglia, che ha organizzato il primo sit-in davanti all'ingresso del tunnel. Abbiamo scelto la giornata di sabato per verificare, purtroppo, che i lavori sono fermi. Quindi non si spiega la straordinarietà dei lavori se poi nel weekend, sabato e domenica, i lavori non vanno avanti. Ecco quindi giustificati tre mesi e forse anche qualcosa in più. Noi chiediamo un incontro al più presto con l'ANAS affinché ci vengano spiegate le modalità di intervento e soprattutto le tempistiche. Perché non è normale nel 2018 con un budget così importante, 5 milioni di euro, non lo scopriamo oggi, che si effettuino un solo turno al giorno, dove eventualmente se ne potrebbero pensare almeno due e forse meglio tre. Questa invece, la rabbia della gente. Che tipo di disagi composta la chiusura di questa galleria? Intanto sulla stradina che ti porta poi a Manfredonia, veramente stretta, ci sono difficoltà proprio di circolazione, con i mezzi tipo i pullman eccetera, a parte il rallentamento che insomma già è considerevole. Però diciamo la cosa più importante che pesa di più è proprio la cattiva circolazione. Io sono già un paio di volte, adesso che sono andando a Manfredonia, o non siamo più abituati su queste strade, non lo so, infatti si guida malissimo e c'è veramente tanto pericolo. E poi la cosa impossibile, incredibile, è quella che tre mesi per fare questi lavori, insomma, è un'esagerazione. Io mi meraviglio con un budget così importante, vedere che i lavori non sono in esecuzione. Almeno tutta la settimana bisognava farla. Andava bene anche i turni di notte, fare le 24 ore, perché con 5 milioni di euro credo che potevamo richiedere i lavori più celeri. Sì, non ha ragione, con questo budget e poi comunque questi lavori qua che creano tutti questi disagi, altrove si fanno in un'altra maniera. Cioè nel senso che si lavora a 24, fanno diversi turni. Io ieri li ho visti alle 5 che se non andavano a casa, tranquilli, capito? Non va bene così, i lavori bisogna farli perché sia per legge sia perché per la sicurezza. Però ci vuole anche un attimo, diciamo, 3-4 mesi qua di blocco e non è ammessibile.